Dopo un periodo lungo e difficile con emergenze da affrontare a causa della pandemia, alla Casa Albergo per Anziani Famiglia Nova è tornata la serenità ed anzi si guarda al futuro con nuovi progetti e iniziative. Intanto dal 12 aprile scorso è stata attivata una nuova struttura di fronte all'attuale di Via Malvezzi nel centro storico di Fano. Finalmente una bella storia relativa a Famiglia Nova che si è rialzata dopo un difficilissimo inizio di 2020 e ora aumenta i servizi e li va ad individualizzare per tutti i suoi residenti. Sono due strutture distinte ma di un'unica gestione, quindi si può parlare veramente di un ampliamento e di un incremento delle attività che Famiglia Nova propone ai suoi residenti e anche un'individualizzazione delle cure che vengono offerte. A chi sarà dedicata? Questa nuova struttura prenderà il nome di Famiglia Nova 2 ma sarà dedicata a tutte le persone con autosufficienza o parzialmente autosufficienti e servirà proprio perché ha una spendibilità che promuove il mantenimento delle autonomie ed è finalizzata e mirata al mantenimento e quindi al riuscire a fornire un servizio sempre più preciso per delle persone e calzante per delle persone che hanno delle autosufficienze. La prima struttura per soggetti non autosufficienti può ospitare fino a 65 posti letto mentre la nuova 20 posti in totale. Ad oggi inoltre sono circa 60 gli operatori che ruotano nei due edifici tra servizi alberghieri, sociosanitari e infermeristici. Decine poi sono le attività che vengono svolte ogni giorno in queste case albergo nelle quali sono state predisposte anche delle aree specifiche per eventuali isolamenti di persone positive al covid o in attesa di accertamenti. Gli anziani sono stati vaccinati? Gli anziani sono stati tutti vaccinati e provvederemo ad accogliere nuove persone vaccinate o comunque ad occuparci della vaccinazione di ognuno. Il personale è stato tutto vaccinato e attendiamo delle disposizioni a breve per poter dare maggiori possibilità anche da un punto di vista di incontri con i propri familiari.